Buonasera a tutti e ben ritrovati, l'ultimo appuntamento di questo martedì 2 febbraio pieno di incontri, perché io avevo detto un incontro settimanale fisso, cioè un incontro giornaliero al giorno, ragazzi non ho più, ormai sono diventato dislessico, avevo detto 5 incontri settimanali da domenica a giovedì più 1 o 2 fuori programma, ma oggi fuori programma sono stati 3, ma i personaggi incontrati oggi sono stati talmente interessanti e chiudiamo in gran bellezza, perché chiudiamo parlando del padre putativo della cultura italiana che è Dante, perché ovviamente ricorriamo anche nel suo festeggiamento, abbiamo fatto l'anno per Leonardo, l'anno per Raffaello e quest'anno è l'anno di Dante. E chi se non lui poteva occuparsi di tanto argomento se non il nostro fortunato d'amico che rientra fuori programma, ma sempre con la sua dynamic culture e recupera un po' gli eventi persi delle settimane passate. Allora caro fortunato, l'argomento è diciamo dirompente, Dante l'abbiamo già affrontato ieri con Massimiliano Finazzer Flori, invito tutti coloro che non hanno visto la diretta ad andarla a vedere sull'archivio YouTube della Liberia Bocca e stasera invece andiamo nel versante femminile, nella figura che si cura e che ha editato un libro, Dante il Furgatorio. Sì, intanto buonasera a tutti, compresa anche la nostra ospite Bianca Garavelli, parliamo ancora di Dante Lighieri. Ciao Bianca, parliamo con te questa sera di Dante Lighieri, ieri è stata una giornata veramente intensa, l'abbiamo visto durante lo streaming, ma anche dopo dei messaggi che sono arrivati e ancora questa mattina, dei complimenti per questa chiacchierata che Massimiliano Finazzer Flori è riuscito a renderci in maniera gustosa e soprattutto ha incuriosito moltissimi che a Dante si stanno avvicinando, poi sotto anche questa ricorrenza. Quest'oggi ne parliamo con Bianca Garavelli, Bianca Garavelli è ormai considerata una delle maggiori esperte di Dante Lighieri, però prima di iniziare a parlare di Dante Lighieri vorrei intanto presentarvi la nostra ospite Bianca Garavelli, una giornalista, una storica della lingua italiana, esperta di letteratura italiana, si è laureata a Pavia e poi è allieva di Maria Corti che è stata sicuramente una delle critiche letterarie e filologhe tra le più importanti e soprattutto anche per i suoi studi di semiologia delle accademie italiane. Ecco questo è un pochino la retrotterra di Bianca Garavelli, io però ti chiederei Bianca di come faccio con tutti gli ospiti di presentarti un po', di presentare il tuo escursus prima di parlare di Dante. È un piacere, grazie Fortunato, mi presento brevemente, quindi io sono appunto una scrittrice, mi considero tale come anche Maria Corti pensava di sé, quindi lei si considerava più una scrittrice che è una filologa e mi sono laureata con lei a Pavia, però poi ho conseguito il dottorato di ricerca all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'imprint in vero letterario me l'ha dato comunque Maria Corti che quando mi sono laureata era una studiosa importantissima, come dicevi tu Fortunato, di semiotica. Lei e Cesare Segre avevano portato la semiotica in Italia, quindi io sono cresciuta proprio con i suoi insegnamenti, però lei aveva un approccio alla letteratura direi istintivo, nonostante l'aspetto scientifico diciamo della semiotica, perché lei riteneva che bisognasse far parlare i testi, quindi avvicinarsi con molto umiltà a un libro, a un classico della letteratura e leggerlo, rileggerlo, quindi cercare di entrare nel clima di quel testo e poi però avere anche un pizzico di presunzione nel cercare di capire qualcosa che non era stato ancora capito di quel testo, quindi io sono cresciuta un po' a questa scuola di Maria Corti. Piccola curiosità, lei aveva all'università di Pavia aveva l'insegnamento di storia della lingua italiana che era considerato un esame complementare, quindi le avevano assegnato un'aula piccola, ma lei era talmente carismatica e così vivace nell'esporre le sue idee che poi hanno dovuto darle un'aula più grande, l'aula anfiteatro diciamo, perché aveva tantissimi studenti, la seguivano in molti. Poi vabbè ho cominciato a scrivere abbastanza presto e avevo pubblicato con lei un romanzo, un romanzo breve nella collana Clessidra di Guida dove c'erano due libri in uno, appunto Clessidra perché è finito di leggere uno, si rovesciava il libro e come una Clessidra si trovava un'altra copertina e si poteva fare un'altra lettura. Io avevo cominciato con l'amico di Arianna che attualmente si trova nella raccolta di racconti L'oscurità degli angeli edita dalla Dolphi nel 2013, quindi basi comunicanti possiamo dire. Beh, è un'esperienza assolutamente fondamentale per la tua formazione culturale, questa con la Corti, ma poi come ti sei avvicinato a Dante? Come nasce quest'amore? Quando poi è nato? È nato proprio ai tempi dell'Università di Pavia perché Maria Corti stava facendo degli studi sulle fonti arabe della Divina Commedia e io le avevo chiesto la tesi perché mi affascinava. Lei mi diede appunto come argomento la vita nuova, quindi l'opera più giovane rispetto alla Divina Commedia, però già un'opera molto importante, molto matura e soprattutto è quasi un romanzo in cui Dante usa anche la prosa, quindi la prosa e la poesia insieme racconta del suo innamoramento con Beatrice. Beatrice è un personaggio chiave per la Divina Commedia come voi ben sapete e io penso che se Dante è l'uomo dell'anno allora Beatrice è la donna dell'anno nel 2021. Ecco, senti Bianca, sei considerata una delle maggiori esperte adesso per tutti gli studi che hai fatto su Dante, sei addirittura stata invitata come ospite d'onore se non sbaglio alla giornata mondiale della Dante, alla società Dante Ligieri di Monte Carlo, al principato di Monaco. Esattamente. Tu non scrivi solo su Dante, dei sali su Dante, ma scrivi anche dei romanzi a partire da Dante. Quanta produzione editoriale hai fatto in questo senso? Tanta mi pare, no? Beh, allora, proprio con Dante protagonista c'è un romanzo per ora, poi vedremo, insomma, spero che avremo delle belle sorprese. Questo romanzo si intitola Le terzine perdute di Dante, poco fa c'era la copertina online, in onda diciamo, e è un romanzo thriller dove c'è una parte ambientata a Parigi nel 1309 e una parte invece con uno studioso, un filologo che fa una scoperta fantascientifica direi, e cioè scopre un manoscritto di Dante, la sua firma autografa, che in realtà non esiste, cioè noi non abbiamo alcun autografo di Dante. E io immagino che Dante abbia nascosto una profezia sulle scoperte scientifiche dei nostri giorni in alcune terzine secretate dentro un manoscritto del Roman della Rose. E qui si parla anche del bosone di Higgs e dei buchi neri, insomma, delle nuove scoperte scientifiche che provocatoriamente, insomma, Dante considera dei rischi per l'umanità. Quindi è una piccola provocazione sulla scienza. Beh, d'altra parte poi Dante è considerato un uomo di cultura completo, sia di letteratura, ma poi anche uno scienziato, per cui lo dicevamo ieri con Finazzar Flori. E quindi anche queste immagini adesso che incuriosisce molto di un Dante esoterico, non se ne parla molto, ecco. Tu in questo senso hai fatto delle indagini, che cosa ci puoi raccontare di questo Dante esoterico? Allora, più che un Dante esoterico, qui c'è un Dante visionario, ecco, mi piace parlare di questo. Poi ci sono tante interpretazioni, c'è chi dice che era un templare oppure era un eretico e così via. E in effetti lui ha rischiato la condanna come eretico, la schivata per un pelo, come del resto anche San Tommaso, quindi era in buona compagnia. Dicevo, un Dante visionario perché il paradiso è la cantica in cui lui sembra avere visto veramente qualcosa, cioè ci fa pensare che abbia davvero avuto delle illuminazioni. E in particolare in un canto, il ventottesimo, lui ha la prima visione di Dio che appare come un punto, quindi non è un Dio dall'aspetto umano, non è un Dio che ha il volto di un anziano padre, ma è un Dio geometrico, anzi potrei dire un Dio astronomico, perché infatti alcuni scienziati a partire dal secolo scorso, circa 100 anni fa, già nel 1925, hanno incominciato a vedere che l'universo che Dante descrive, specialmente nel paradiso, è un universo non euclideo, quindi chi sarebbe piaciuto? Einstein, forse anche Einstein conosceva Dante. E in effetti vediamo che quando Dante vede Dio, dopo un po' lo vede circondato da una serie di sfere concentriche, nove, che sono le intelligenze angeliche che si muovono come se fossero dei cieli intorno a questo punto e corrispondono ai cieli che circondano la Terra. Il più piccolo muove il più grande e questo è un paradosso scientifico che ci fa pensare alla cosmologia di oggi in cui l'universo è descritto come una iper sfera, quindi una sfera a quattro dimensioni e perciò sembra che Dante abbia avuto delle intuizioni che gli scienziati di oggi poi hanno messo fuoco. La stessa esistenza di un punto come origine di tutto fa pensare alla teoria del Big Bang, all'esplosione dell'universo. D'altra parte poi la Divina Commedia è ricchissima di riferimenti alle stelle, all'astronomia, un po' da tutte le parti emergono in tutta la parte di racconto, le stelle sono la scenografia su cui si svolge tutto, per cui possiamo anche immaginare che molti di questi personaggi che diventano, che sono vissuti veramente in realtà poi lui li decodifica e li mette all'interno di un sistema stellare, un po' come si usava nelle tradizioni, cioè collegare il mito astronomico e farlo diventare carne. Penso che sia stato uno dei processi che ha seguito Dante Alighieri in questo tipo di narrazione. Hai proprio colto nel segno fortunato, perché infatti c'è un personaggio che anticipa tutti questi aspetti e che è una donna, ma che è una donna astronoma, una donna teologa, ed è Matelda, questo personaggio misterioso che si trova nel paradiso terrestre, cioè alla fine del purgatorio. E lei è disserta in questo bellissimo scenario, che è un meraviglioso giardino, sui movimenti dei pianeti, sui movimenti dei cieli intorno alla Terra e conosce quindi già il funzionamento del cosmo, anche se ha l'aspetto di una fanciulla bellissima che coglie fiori, fa ghirlande, canta e si muove come se stesse danzando. Quindi Dante ha questa incredibile capacità di fondere gli aspetti della poesia stilnovistica, quindi tutti gli aspetti della bellezza, della grazia femminile, con delle profonde conoscenze, non solo culturali, non solo letterarie, ma anche scientifiche. Quindi in lui non c'era quella divisione che anche oggi tende a scomparire tra cultura scientifica e cultura umanistica. Questo lo rende assolutamente innovativo e attuale. E' così perché anche nelle comunicazioni che oggi si fanno di Dante da qualche anno, e lo faccio anch'io molto spesso nelle conferenze per raccontare un po' questa divina commedia, ci sono questi schemi che mostrano come lui in realtà, parlando di inferno, purgatorio e paradiso, in realtà non mette nient'altro che in campo che un sistema graficizzato e poi raccontato, appunto, metaforizzato, di quello che era la conoscenza anche attraverso il sistema tolemaico. Ecco, oggi queste letture mi sembrano importanti perché ci restituiscono un'immagine di un uomo del suo tempo, in un'epoca in cui ancora si pensava che la civiltà, diciamo, la civiltà buia, quella dell'Evo, era invece una società completamente ignorante, mentre oggi anche attraverso Dante riscopriamo che cosa c'era prima e cosa c'è stato dopo e quanta ricchezza in questi simboli, in questi racconti, è una ricchezza non soltanto narrativa, filosofica e poetica, ma è anche una ricchezza scientifica. Ecco, tu di recente, mi pare proprio adesso a gennaio, è uscito il tuo nuovo libro su Dante Alighieri, no? Sì. Ecco, ci vuoi parlare? Come si chiama? Che cosa tratta? Questo è uscito proprio il 26 gennaio, quindi è freschissimo, è un nuovo commento al purgatorio per il progetto della Biblioteca Universale Rizzoli, i grandi classici. Era uscito il commento all'inferno nel 2015 e adesso, nell'anno di Dante, esce il purgatorio, che io considero già la cantica della rinascita, prima ancora del paradiso, perché non dimentichiamo che finisce con questo bellissimo verso puro e disposto a salire alle stelle. Quindi Dante si è purificato, si è alleggerito in questo viaggio attraverso le balze, le sette balze del purgatorio e poi è arrivato al paradiso terrestre dove incontra Beatrice. Ed ecco che c'è di nuovo la presenza di questa donna amata, che sia una donna reale, sia una rappresentazione, un simbolo, possiamo dire, il simbolo della teologia, ma anche il simbolo della poesia, ma anche il simbolo del legame tra l'umanità e il divino, che assume appunto delle sembianze femminili. Questa Matelda di cui ho parlato prima la anticipa, poi arriva Beatrice, che è sullo stesso carro che voi vedete anche nella copertina del libro, è un carro mistico, possiamo dire, dove lei si trova circondata dagli angeli che lanciano su di lei corolle di gigli ed è vestita di rosso come il primo giorno in cui si sono incontrati a Firenze ed erano due bambini di nove anni, ma ha anche un mantello verde e ha un velo bianco. Questi tre colori sono i simboli delle qualità che Beatrice incarna. Non si può dire per essere precisi incarna perché adesso è un'anima beata, comunque le ha incarnate, e cioè l'amore, la fede e la speranza, quindi la speranza che è sempre verde. E Dante quando la vede, quando la incontra di nuovo, realizza finalmente lo scopo del suo viaggio perché lui stesso dichiara che avrebbe voluto ritrovare Beatrice, lo dice alla fine della vita nuova, e che avrebbe voluto scrivere di lei quello che non era mai stato scritto di nessuna donna. E direi che ci è riuscito perché l'ha trasformata in un personaggio immortale. E soprattutto c'è questa novità assoluta, cioè che la donna amata, che di solito era una figura nella poesia medievale cortese completamente muta, questa volta parla. E come parla? Cioè ha una sapienza straordinaria e riesce appunto a guidare poi Dante nel paradiso, quello che farà nella cantica successiva. Il Purgatorio è comunque una cantica molto affascinante, piena di personaggi indimenticabili. Va riscoperta. Certo, senti, ma tu che idea ti sei fatto di Dante Alighieri, cioè come uomo, come persona? Al di là di tutto quello che leggiamo solitamente nella sua biografia, a volte magari esagerata, a volte no. Cioè come che immagine ti sei fatta tu di quest'uomo particolare? Allora, io ultimamente sto un po' indagando sul Dante proprio giovane. E devo dire che gli incontri del Purgatorio aiutano a farsi un'idea di Dante. Perché lui doveva essere una persona che amava vivere, cioè era una persona piena di gioia di vivere, molto curiosa, molto intelligente, amava ovviamente la poesia, amava i conviti, gli piaceva la musica, infatti lui incontra Casella, è un musicista nel secondo canto del Purgatorio. Gli piaceva incontrare le donne, recitare con loro le poesie, ma anche confrontarsi con i suoi amici poeti. Quindi era una persona molto socievole, socievole, curiosa, dinamica direi. Una persona che amava il nuovo, gli piaceva tutto ciò che era nuovo e gli piaceva anche essere internazionale, cioè conosceva delle lingue straniere anche, conosceva sicuramente la lingua doc, il provenzale antico. Fa parlare, infatti, sempre nel Purgatorio, un trovatore e scrive delle terzine in provenzale. Gli piaceva essere al centro dell'attenzione, sicuramente era molto ambizioso, amava la gloria. Poi questo Dante giovane, così pieno di vita, ha avuto delle delusioni. Queste delusioni gli sono venute soprattutto dal mondo della politica e delle battaglie che quella politica così, diciamo, caotica e anche molto violenta del suo tempo provocava. Lui viveva a Firenze, era una città-stato, era una delle più potenti città del tempo, però si trovava anche ad avere dei contrasti con dei nemici forti. E poi c'era il problema dei guelfi e dei ghibellini. I guelfi a Firenze comandavano a partire dal 1260 circa, però non riuscivano a stare in pace tra loro, tant'è vero che si erano divisi, c'erano i guelfi bianchi e i guelfi neri. Dante era anche un guerriero, era combattivo e infatti lui ricorda questa battaglia di Campaldino nel canto quinto del Purgatorio appunto. Non si vanta però di avere combattuto come qualcun altro ha fatto dicendo noi siamo i vincitori di Campaldino eccetera eccetera. Lui semplicemente ricorda questa battaglia attraverso un personaggio che era tra l'altro uno dei capitani dell'esercito nemico di Firenze, cioè Buon Conte da Montefeltro e racconta come muore, cioè gli fa raccontare come è morto e questo è affascinantissimo. Quindi questo Dante che ha vissuto una vita piena è diventato poi solo poeta, solo letterato, probabilmente nel periodo dell'esilio, profondamente deluso dalla politica, dai suoi stessi compagni di partito e poi deve essere stato per lui un grandissimo dolore la morte di Beatrice che è morta giovane nel 1290, doveva avere circa 24 anni. Quindi quel Dante arcigno che noi vediamo nei ritratti è forse il Dante più adulto. E come senti, la sua passione è considerato il papà della letteratura italiana e soprattutto della lingua italiana, Dante. Ecco, questa passione per la lingua e per la parola conosceva anche altre lingue da quello che mi stai dicendo tu. Certo. Come inizia questo amore per la parola? Quando e come inizia per Dante? C'è un momento che se possiamo dire da questo momento nasce questa figura legata anche alla letteratura e alla parola? Ma sempre rifacendoci al suo racconto giovanile, cioè alla vita nuova, direi che la poesia è connaturata con Dante. Lui era un istintivo poeta che poi ha coltivato la sua passione per la poesia con la sua profonda cultura, con le sue letture. però se pensiamo che la vita nuova inizia con la prosa, ma è una prosa poetica, direi che la poesia vivifica tutto nella sua scrittura. E Dante era anche un critico letterario e parlava anche di linguistica. La sua opera di questo genere, cioè saggio di linguistica, è il De vulgari eloquenzia, che lui scrive in latino perché è rivolto al pubblico dei dotti, dei colti, ma la lascia incompiuta. Quindi cosa possiamo dire? Che Dante prediligeva la poesia, quindi vedeva nella parola poetica diciamo la summa di tutta la parola che si poteva creare, che si poteva usare. E perché la poesia era più duttile e gli permetteva di inventare anche dei neologismi, quindi delle parole che non esistevano. Possiamo dire che lui è il padre della lingua italiana perché è fiorentino e il suo fiorentino è quello a cui si ispira anche Manzoni poi quando, secoli dopo, decide di costruire una lingua che sia accessibile ai suoi lettori. Quindi è diventato il modello. Comunque possiamo dire che la lingua italiana, come la lingua di Dante, in particolare quella della Commedia, è una lingua molto ricca, una lingua variegata, tumultuosa, piena di aspetti contrastanti anche, così come sono i luoghi che Dante visita nel suo viaggio nell'aldilà. Quindi lui sa scrivere nel linguaggio dei diavoli ma anche in quello degli angeli. Sì, non era forse un periodo storico, un pochino nel piccolo, simile a quello che stiamo vivendo adesso, con tanti viaggi dei mercanti, la riapertura poi dei territori, quindi tante lingue che si incrociavano e si conoscevano tanti aspetti diversi della cultura. Penso a città appunto come Venezia, Firenze, tutti i mercanti che arrivano un pochino da tutte le parti d'Europa e anche dell'Asia, non era un momento dove la lingua appunto stava cuocendo in questo brodo che avrebbe dato poi origine a qualcosa di diverso rispetto a prima dal latino, della lingua romanza? Sì, in un certo senso sì, perché diciamo che l'Italia di allora era più internazionale di quella di oggi nel suo interno, perché era formata da vari stati. Poi va bene, noi adesso abbiamo relazioni internazionali, ovviamente, però anche Dante le aveva, sì sì, i mercanti, i viaggi, lo stesso Dante, se voi ricordate, conclude la sua vita proprio con una, con un'azione di diplomazia internazionale, perché lui era ospite negli ultimi anni a Ravenna, ed era diventato il pupillo, possiamo dire, ma diciamo anche l'amico di questo signore di Ravenna, che era Guido Novello da Polenta, e sua zia, vi ricordate chi era? Era Francesca da Rimini, quindi personaggio immortale che diventa uno dei personaggi più famosi, se non il più famoso della Divina Commedia. Grazie a questo signore, Dante può concludere la sua vita con un successo diplomatico, perché viene mandato come ambasciatore a Venezia, per l'appunto, dove c'erano dei problemi, cioè le due città, Ravenna e Venezia, erano in difficoltà diplomatica, e Dante risolve questo problema, tant'è vero che nell'anno successivo, nel 1322, avviene proprio la pace, cioè si sigla la pace tra le due città. Dante non fa in tempo a vederla, perché muore appunto nel settembre del 1321, però ha già capito che la sua missione è stata un successo, quindi probabilmente, io spero, è morto serenamente, cioè è morto consapevole di aver ottenuto un buon risultato. Ecco, senti, tu stai figurando un Dante Alighieri, a distanza di 700 anni, mi sembra molto vicino a degli atteggiamenti moderni, ecco, non so, vogliamo continuare a lavorare su questo schema, cioè trasposto in un'epoca d'oggi, chi sarebbe Dante Alighieri? Come ce lo immaginiamo? Tu che hai molta fantasia, scrivi poi romanzi, anche, allora, io me li immagino come, come di nuovo una persona molto curiosa, quindi io lo immagino iscritto a tutti i social, che fa dei post politici aggressivi in cui esprime le sue idee in maniera appunto molto decisa, attacca quelli che considera dei politici di scarso valore o che stanno sbagliando, io lo vedo un po' così, ecco, sarebbe molto presenzialista, secondo me, quindi farebbe anche lui le dirette, sarebbe comunque una persona integra, perché Dante, secondo me, era una persona che ci teneva all'onestà, anche in campo politico, e avrebbe, avrebbe voluto che ci fosse una stabilità, finalmente, e una pace nella sua, nella sua terra natia, quindi, punterebbe anche oggi alla pace. Quindi anche lui, arte come responsabilità sociale, cioè tu lo vedi così, un impegnato da militante, a fare produzioni artistiche, poi anche azioni. Lui lo era, lui lo era, cioè lui ha sempre, si è sempre impegnato per il bene della sua città, quindi non, non vedeva l'arte per l'arte, forse nell'arte, in un certo senso, per un certo periodo della sua vita, ha visto il rifugio dalle delusioni della vita politica, però lui, prima di dedicarsi a tempo pieno alla stesura della Divina Commedia, ha sempre lottato per far prevalere le sue idee, che lui, ovviamente, riteneva le più giuste, e voleva la pace, perseguiva questo, quindi la pace tra tutte le fazioni, la pace tra le varie città, e l'unità italiana. Ecco, senti, voglio farti un'altra domanda, sempre per la curiosità, e per la passione delle parole, magari sulla metrica, Cioè, Dante fa i suoi cantici, c'è un'invenzione, appunto, come ci diceva ieri, Finazzera, anche l'inventore dell'indieca sillabo, fantastico, ecco, ma le sue relazioni con la musica, quali sono state con la ritmo, abbiamo qualche documento interessante? Qualche piccola traccia l'abbiamo, qualche piccola traccia l'abbiamo, allora, non è proprio vero che è stato l'inventore dell'indieca sillabo, però è stato l'inventore di quel bellissimo metro, che è la terzina a rima incatenata, che è molto musicale, oltre che molto narrativa. Noi abbiamo degli indizi che Dante avesse, un grande amore per la musica, da questi incontri nel Purgatorio, a cui ho accennato prima, quindi, il musicista Casella, che è un suo amico, che incontra nel canto secondo, è una delle anime che sono appena sbarcate, arrivano con una nave, che è guidata da un angelo bellissimo, che usa quasi le sue ali come delle vele, le anime sbarcano, sono un po' spaisate, e a un certo punto, quando i due si riconoscono, Casella si mette a cantare, e canta una delle canzoni di Dante, Amor che nella mente mi ragiona, e tutte le anime, come di fronte a Orfeo, sono incantate da questa musica, e si fermano ad ascoltare, quindi dimenticano quello che devono fare, cioè salire sul monte e purificarsi, per cui Catone le sgrida, e qui c'è un primo episodio interessante, poi c'è l'incontro con Belacqua, che era un maestro liutaio, e poi c'è proprio l'idea, che la musica accompagni, il viaggio delle anime nel purgatorio, perché ci sono spesso dei cori, queste anime viaggiano in gruppo, camminano magari nell'antipurgatorio lentamente, e cantano, oppure stanno espiando e cantano, quindi c'è una specie di grande coro, come in una cattedrale gotica, nel purgatorio, e poi anche nell'universo c'è la musica, perché il paradiso è un insieme di sfere che ruotano eternamente, e che producono un suono melodioso, e sono gli inni degli angeli, quindi c'è la musica delle sfere, possiamo dire, e sicuramente Dante riteneva che la musica fosse parte dell'universo, fosse parte della creazione divina, e la corralità, la vicina molto anche all'idea di Platone, di Repubblica, questa corralità, questa armonia, dello stare insieme, dello stare insieme con le sfere celesti, che relazione c'è tra Platone e Dante? Probabilmente Dante aveva come lettura principale Aristotele, tutta la letteratura tomistica, quindi la filosofia scolastica, quindi era un fan di Aristotele, però sicuramente conosceva anche Platone, e l'idea del, secondo me sì, cioè, non lo dico io, lo dicono altri numerosi, studiosi, più illustri di me, e si vede anche da come struttura proprio il cosmo, che è una specie di emanazione, emanazione di questo punto minuscolo e luminosissimo, da cui dipende tutto, quindi è la teoria dell'emarantismo, che è platonica, quindi sicuramente. Ma noi riusciamo ad avere una, quello che è stata la lettura, la bibliografia che utilizzava Dante Alighieri all'epoca. La sua biblioteca? La sua biblioteca, di quelli di biblioteca, poi andiamo a vedere a... Allora, è una bella domanda, fortunato, perché appunto la biblioteca di Dante rimane un pochino avvolta nel mistero, e questo naturalmente piace molto a noi romanzieri, perché siamo in ventaggine di ogni. Però, allora, lui conosceva, abbiamo detto alcune lingue, vediamo quali, conosceva il latino, conosceva il francese antico, conosceva la lingua d'hoque, non conosceva il greco, non conosceva l'arabo, e dall'arabo passava molta cultura all'epoca, però noi possiamo immaginare che Dante avesse letto dei libri, magari anche scientifici, anche astronomici, provenienti dal mondo arabo, in traduzione, e qui c'è una chicca simpatica, allora, si parlava prima delle fonti arabe della Divina Commedia, quindi della conoscenza di Dante, di libri arabi, e che sembrano apparire così, emergere da sotterraneamente, come un fiume carsico, riemergere in superficie, con delle immagini, per esempio, questo paradiso terrestre con i fiumi, può essere di origine classica, l'Eta esisteva già nella mitologia classica, però potrebbe anche essere di ispirazione araba, così come un albero che appare nel penultimo terrazzo del Purgatorio, che ha a che fare con i golosi, che però ha le sue radici nel cielo e le fronde sulla terra, e anche questo potrebbe essere stato ispirato dalla lettura di un libro, che racconta il viaggio nell'aldilà, del profeta Maometto, accompagnato dall'Arcangelo Gabriele. Questo libro è il libro della Scala e un arabista spagnolo, molti anni fa, più di cento anni fa, aveva sottolineato che c'erano degli aspetti del mondo escatologico arabo nella Divina Commedia. Non era stato molto apprezzato, perché si riteneva che Dante, non conoscendo l'arabo, non potesse averli letti. Tempo dopo, negli anni 40, emerse un manoscritto, che è appunto il libro della Scala, che era stato tradotto sia in latino, sia in francese antico, e regalato a Brunetto Latini, niente meno che a Brunetto Latini, che è stato il primo maestro di Dante, e che era stato ambasciatore presso la reggia di Alfonso X di Castiglia, a Toledo, dove questo re, che amava la cultura, amava la scienza, aveva creato una scuola di traduzione. Quindi Dante, secondo me, è impensabile che non l'abbia fatto, curioso com'era, ha letto questo manoscritto tradotto in latino, in francese antico, che con i latini portò a Firenze. Ti faccio un'ultima domanda, perché vedo che scarpita, Giorgio. è una mia curiosità. Quando parlo di Dante, io lo puoi dire. Però poi si riesco a fermarmi. Senti, un'altra curiosità, allora, hai parlato di un Dante globalizzato nel suo piccolo, quindi, mi fa questo viaggio ultraterreno, ma noi sappiamo che viaggia ha fatto effettivamente, dove è stato, in quali terre, abbiamo una mappa del suo viaggio terrestre. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, con dei punti ciechi, anche qui, e questo lo rende ancora più affascinante, ma ce l'abbiamo, perché Dante fu sicuramente a Bologna, fu sicuramente in Lunigiana, da Moroello Malaspina, fu a Verona, fu a Padova, sappiamo che fu a Ravenna, Venezia, e molto probabilmente fu a Parigi, per l'appunto, perché ne parlano i suoi più antichi biografi, il primo, si può considerare biografo, anche se non scrive un libro su di lui, ma gli dedica una pagina, è Giovanni Villani, e Giovanni Villani dice che andò a Parigi, riprende, oppure ha un'altra fonte, non lo so, comunque, dice a sua volta che Dante fu a Parigi, poi Giovanni Boccaccio, che scrive proprio un libro biografico su Dante, e non ci sarebbe da stupirsi, perché Dante amava la cultura, e Parigi era il centro della cultura dell'epoca, quindi era proprio la capitale, e perché no, era in esilio, non poteva tornare a Firenze, sarà stato un viaggio impegnativo, sicuramente, un viaggio... Con delle tappe anche? Con delle tappe, e lui per esempio cita l'esaliscamp, l'esaliscamp che sono quelle tombe granitiche che si trovano a Arles, cita Parigi, cita l'università di Parigi, Vico degli Strami, Rue de Fuar, cioè nel Paradiso, e mette in Paradiso uno di questi filosofi che furono effettivamente condannati come erittici, e cioè Sigiri di Brabante. Quindi io noto che Dante tendeva a mettere dei particolari, dei dettagli, dei luoghi che conosceva nei suoi scritti, in particolare nella commedia. Bene, insomma, penso che ci hai dato un quadro non esaustivo, ma sicuramente interessante di questo personaggio, che sicuramente quest'anno tutti quelli che si occupano di cultura vorranno approfondire ancora di più, perché come l'ho stato per l'anno di Leonardo, abbiamo due grandi personaggi che hanno costruito l'immagine del nostro territorio nel mondo e continuano ad essere di una grandissima attualità, cioè emerge dalle tue parole anche quelle che ieri Massimiliano Finasser ci ha raccontato. Giorgio? Beh, vedo, intanto mi fa piacere, fortunato, perché ti vedo molto sul pezzo, nel senso che sei proprio entusiasta, per ascoltare la Bianca, che sei un personaggio straordinario. Io ho avuto in diverse occasioni la Maria Corti all'interno della Liberia Boca per presentare, presentare amici scrittori e devo dire che era un personaggio leggendario e mitico. tra l'altro lei mi ha conosciuto che io ero un ragazzino perché la Maria Corti comunque veniva in Liberia sulla fine degli anni 90 all'inizio del 2000 e quindi l'ho vista parecchie volte, devo dire straordinaria. È vero, lo posso confermare. Posso capire la magia di queste aule che erano piccole ma si riempivano, gremivano di persone e poi gli hanno dato spazi adatti alla sua figura, alla sua statura di intellettuale. Sì, sì, di grande intellettuale, indubbiamente. E devo dire che tu hai preso molto da lei, hai un... veramente hai il verso Beatrice ma sei... è Beatrice nell'aspetto ma con le parole di Dante in bocca perché è veramente un piacere ascoltarti. Io faccio questo incontro che è paradisiaco. Devo dire una cosa a Giorgio a favore della Bianca che tra l'altro questa nostra rubrica questa che appunto sto curando con la libreria Bocca è anche dei partner perché come me anche Bianca fa parte di Rete Cultura Vigevano che gestisce il festival delle trasformazioni che è partner anche di questa rubrica insieme a pensare globalmente e agire localmente. per cui adesso vi faccio vedere tra l'altro l'invito sì che appunto ce lo spieghi eccolo qua aspetta che vi tolgo la sovraimpressione tra l'altro un sacco di belli spunti perché poi io il 9 dovrò vedere Barbero quindi anche con lui parleremo di Dante e allora vi butto lì qualche perla di saggezza che mi hai dato grande personaggio Barbero sì 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 penso che questi incontri siano un po' delle pillole per ricordarci anche noi cose che magari abbiamo studiato abbiamo frequentato magari in periodi della vita però poi come capita a tutti quanti abbiamo dei focus e qualche volta tralasciamo da parte delle cose importanti anche se fanno parte della nostra formazione per cui io Bianca ti ringrazio perché come è stato interessante ieri lo è stato altrettanto oggi e queste elezioni sul Dante secondo me faranno anche importante una città come Milano e come un territorio italiano che deve promuovere quest'anno il compito nonostante tutte le difficoltà di portare avanti questa iniziativa io aggiungerei anche questo noi a Vigevano dove abbiamo anche le nostre associazioni insieme a Bianca quest'anno faremo anche noi delle manifestazioni dedicate alla figura di Dante ma anche alla sua contemporaneità nella poesia di oggi e anche nella scienza speriamo e anche nella musica comunque visto la tua disponibilità Bianca un paio di domande infatti la cosa bellissima trovo nella bibliografia utilizzata da Dante perché poi i riferimenti ci sono sempre ma l'altra cosa è che sul libro di Barbero che spuncia ogni tanto per poi avere delle domande che non vorrei parlare di Dante con Barbero perché viene troppo facile parleremo di Medioevo in generale l'altra cosa lui dedica un capitolo del rapporto di Dante con la nobiltà e poi Dante si sa che dice che la nobiltà non è di origini familiari ma è di virtù cioè comunque sarebbe il suo pensiero principe poi dopo i pensieri si cambiano infatti la nobiltà potrebbe essere equiparata visto che abbiamo già parlato anche di social media nella contemporaneità visto che qui la nobiltà ormai se non prendiamo ad esempio la regina d'Inghilterra che penso che morirà lei con il titolo perché a questo punto c'ha 96 anni ne ne do altri 90 ma è veramente Highlander questo è il pensiero allora della nobiltà o di Dante nobile? della nobiltà del panorato che potrebbe essere equiparata alla notorietà social di oggi si hai ragione allora potrebbe essere che gli influencer sono la classe più elevata di oggi la classe più più popolare anche mentre c'è forse forse c'è anche una classe politica che è sulla bocca di tutti però non è apprezzata mentre invece l'influencer sì quindi anche Dante comunque aveva cambiato idea perché lui diceva quando era un giovane stilovista lui apparteneva a una famiglia della piccola nobiltà lui diceva che era più importante la virtù e quindi la nobiltà d'animo poi però quando scrive il paradiso lui si premura di mettere in luce una sua ascendenza importante quindi di avere un antenato nobile a sua volta e poi un guerriero un grande guerriero la nobiltà nel passato ma la cosa interessante è anche questa che effettivamente se pensiamo alla nobiltà vera quelle delle famiglie reali l'unico personaggio reale di cui si parla e qualcuno conosce è la regina Elisabetta tutti gli altri nobili perché di queste coronate in Europa siamo pieni abbiamo anche gli spagnoli con due reali ma voglio dire o entra nel gossip vero o a livello mediatico è gente sconosciuta è vero infatti infatti quindi il mondo il mondo è cambiato il mondo è diverso e ora i nuovi nobili sono gli influencer mettiamoli così sono i più i più invidiati indubbiamente perché una volta i nobili erano anche invidiati soprattutto invidiati a parte che erano gli unici che potrebbero per mettersi un tenore di vita che tutti gli altri sognavano ecco Giorgio sei diventato un influencer anche tu adesso no 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 devo essere sincero a me non mi interessa di diventare un influencer però mi interessa continuare per conoscere personaggi come Bianca e come te fortunato perché se non ci fosse stata la social tv io a te non ti avrei mai conosciuto non ti avrei conosciuto questo contesto e devo dire che mi stimola tantissimo sì sì bene io sono contenta di questo grazie Bianca vedi Bianca su Dante la commedia grazie per questa diretta e poi ne sono arrivati altri una presentazione molto bella interessante e tanti tanti altri ovviamente colpisce molto che Dante e i suoi contemporanei usassero la poesia per comunicare per discutere anche di politica ecco sarà interessante la settimana prossima quando avremo un altro ospite anche lui con le parole i novelli i novelli Dante come sono fatti i novelli Dante come comunica oggi la Divina Commedia se c'è ancora la settimana prossima avremo con noi uno dei grandi scrittori di testi di canzoni italiani che credo che tutti quanti conoscono perlomeno cantano le sue canzoni che sono in bocca a tutti i maggiori cantanti italiani anche all'estero e quindi avremo a che fare con Alfredo Rapetti di Mogol in arte anche Cheope per quanto riguarda la scrittura è interessante capire come questo incontro possa avvenire oggi come la diffusione della parola anche quella poetica quella romantica e quella d'amore entra in una società contemporanea completamente diversa comunque da quella del 300 poi del 400 bene di nuovo grazie complimenti grazie fortunato e buona scuola grazie ciao ciao